e ciao a tutti ragazzi noi siamo eros e siamo in balanga e in questo video siccome è la giornata stività delle donne noi volevamo portare questa volevamo portare l'impido di laura pausini niente cioè lo portiamo anche per la nostra mamma per alcuni mamma anche se non è la festa della mamma però della donna dopo in generale e niente let's go inizio un po' strano forse forse noi siamo fatti per cambiare forse noi non lo saremo mai ma non è il principio imprescindibile di ciò che sei per me è solo che rimane quando mi hanno dormito orribi tu e sento che nascondo dentro quello che non sai di me lascerò che sia il tempo a decidere chi sei per me lascerò l'impido 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 All'istinto che per buio tornerà, bimbinò, bimbinò. La sera che sia il tempo a decidere chi sei per me. La sera all'istinto e quel cielo poi ritornerà, bimbinò, bimbinò, bimbinò. Forse noi non siamo fatti per cambiare, forse non rosseremo mai. Sì, piccolo particolare e niente, come abbiamo detto all'inizio, tanti auguri a tutte le donne e buona festa della donna. E niente, se il video vi è piaciuto a donne e uomini, chi siete, lasciate un like, commentate, condividete a tutte le donne possibili. E niente, iscrivetevi attimando la campanellina delle notifiche e come sempre ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!